Vediamo se funziona adesso Ehi ragazzi, sono riuscita ad aggiustarlo Come fate a dormire in un momento solo? Siete due scriteriati belli e buoni Ehi nonnetto, ti spiace alzarti un attimo? Avanti, vieni qui Nonnetto a me? Ho inserito un nuovo codice, così riusciremo a capire i messaggi Dunque, vediamo Solo 139 139? Ma è pazzo, io non ho tutti quegli anni Non è la tua età, si riferisce al tuo livello di combattimento Quello è il valore della mia forza Che aggeggio interessante, potrebbe tornarci utile in futuro Dai, Bulma, prova con me adesso, dimmi che valore ho Andiamo meglio, livello 206 Ah, evviva, ti ho battuto genio, sono più forte io, mi spiace per te Ma figurati, quel cingillo non funziona Sei sicuro? Invece funziona e ve lo dimostro Solo 0,001 Convinto adesso? I valori sono giusti Oh, povero me Scommetti che se misuro il mio livello è più alto del vostro?